Ho appena letto un articolo sul Time straordinario che parla di quanto i social oggi possono essere influenzati dall'intelligenza artificiale in modo positivo e questo è qualcosa che può cambiare davvero le regole nel senso che ad oggi la maggior parte dei social funzionano sulla base di quanti like o di quante visualizzazioni hanno contenuto ed è normale che in un mondo in cui i social sono usati prevalentemente per l'intrattenimento questo porti ad un fenomeno per cui alla fine ti ritrovi mille stupidaggini e contenuti buoni di qualità non riescono a emergere questo non significa che avranno più visualizzazioni, più interesse rispetto a quelli stupidi significa però che oggi sono nascosti, sono lasciati indietro, sono sommersi dai sistemi e dagli algoritmi se invece un sistema di intelligenza artificiale riuscisse ad essere utilizzato in modo positivo per andare a comprendere i contenuti del singolo post, capirne il contesto, capire quanto quanta connessione c'è con gli utenti, la reputazione anche di chi lo scrive, perché magari c'è chi ha scritto oggi un contenuto apparentemente interessante ma è basato sul nullo, è basato su interessi suoi, insomma se riuscissero a cambiare il modo in cui gli algoritmi funzionano e a mettere davanti e distinguendoli contenuti di qualità scritti da persone di qualità e quindi non come dire venduti, improvvisati, pagati per farlo eccetera sulla base della loro reputazione questo potrebbe cambiare di molto le cose se riesco nei vari, a seconda di dove posto questo video, vi metto il link o nei commenti o subito all'articolo del Time, molto carino